... Chiediamo protezione alla Maria Libia della Santissima Spina della Corona di Gesù e crediamo che a partire da oggi, l'ultima domenica di luglio, si facciano 15 giorni di festa per tutte le persone, Banco Cittadini, Banco Forestieri, con giostri, vietanze e ripagioni abbondanti, con grandi panchetti, con fiere e pari, si ordina! Grazie a tutti! 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 Grazie.